Veniamo per un attimo agli aspetti, no per un attimo, anche più di un attimo, agli aspetti diciamo tecnici di lavorare a teatro. Allora, come lavora Glacomauri? Noi modestamente abbiamo cercato in maniera certo molto sintetica, senza altro di evocare il modo di lavorare, però ecco adesso la possibilità di spiegarlo in maniera un po' più, se vogliamo, magari anche di da scalica, però insomma più concreta e poi volevo chiedere anche il rapporto con i giovani attori, quando deve trovare un giovane attore, cosa fa, dei provini, come si svolgono? Io generalmente conosco molti giovani, ma è necessario fare i cosiddetti, parola orrenda, provini, li ho fatti anch'io da ragazzo, però è l'unico modo per conoscere gente che tu non hai avuto modo di vedere. Quello che dico sempre è non barare mai, è quello che io credo che… Non barare mai? Non barare mai, mai, meglio un errore, anche grosso, piuttosto che… è meglio perdere 4-0 che fare 1-1, insomma, in termini molto banali. Quello che dico è, quello che serve per diventare attori, bisogna essere ricchi dentro, non si può comunicare umanità, emozioni, se dentro non hai nulla. Quindi prima, quando si parla di cultura, io credo che esista una cultura cosiddetta umana, mi avviso. Ecco perché dico inserirsi in mezzo alla vita, stare in mezzo agli uomini, in mezzo agli esseri umani, capirli, solo se sei ricco di queste emozioni potrai avere la possibilità di trasmettere ad altri la sensibilità che affronta la vita. Quindi i provini si svolgono in maniera piuttosto tradizionale… Sì, a volte purtroppo si commettono anche degli errori, perché nonostante la tua buona volontà, nonostante il tuo desiderio di dimettere tutti, non nell'imbarazzo, ma in una gradeva atmosfera, a volte si commettono anche degli errori. Che tipo di errori? Errori che magari vi è sottovalutata a una persona che meritava di più e tu magari non affidi un ruolo ad un'altra persona che poi… Potrebbe deludere. Sì. Invece lei ha detto che quando scelgo un testo cerco sempre una motivazione, mi chiedo perché voglio fare questo testo. Allora la domanda è perché ha scelto di portare in scena l'inganno di Anthony Schaaf? Vede, dopo appunto uno può chiedermi perché dopo Delitto e Castillo di Dottoglieschi, dopo anche il Vangelo secondo Pilato, dopo i Goethe di Faust, io faccio… questa commedia apparentemente diciamo borghese, come si dice oggi, racchiude in sé invece degli interrogativi, delle inquietudini molto interessanti. Questa commedia è stata scritta penso nel 1970 da Anthony Schaaf, che è fratello del famoso Peter Schaaf che ha scritto grandi opere teatrali ed è una commedia che ha avuto due edizioni cinematografiche, una nel 1972 con Olivier e Michael Caine, regia di Machievich e poi ultimamente Branagh ne ha fatto un'altra edizione con Michael Caine, che faceva parte di Olivier di allora e con la sceneggiatura di Pinter. Perché mi sono chiesto io, mi è nata l'idea, ma perché questi Machievich con Olivier e Branagh oggi hanno ripescato questa commedia di allora, dandone specialmente a Branagh un'interpretazione secondo Pinter. Quindi la cosa è nata perché ha visto questo film e quindi l'è scattata dentro… Già pensavo da tempo, però la cosa è nata perché ho visto il film, perché la commedia ancora non la conoscevo, ma vede si tratta di un gioco tra due uomini che non fanno altro che ingannarsi a vicenda e ingannandosi a vicenda si fanno del male e alla fine questo gioco, questa farsa si tramuta invece in un dramma e secondo me è come dire quanto siamo stupidi noi uomini a ingannarci e farci del male. Io credo che possa venire fuori anche da questa commedia, altrimenti non l'avrei fatta, anche un certo interrogativo verso le nostre inquietudini, verso le nostre leggerezze a volte di farsi del male a vicenda. A volte diventiamo carnefici e vittime noi stessi. Fa anche pensare molto, noi abbiamo seguito ovviamente le prove per cui abbiamo visto prima, ma fa anche pensare molto, crea anche inquietudine questo meccanismo di scatole cinesi del gioco nel gioco, crea qualche vertigine anche questo. Perché è veramente una commedia piena di colpi di scena, in cui tra l'altro una cosa che dirò brevemente, il titolo è Sleuth o Sleuth, non so esattamente perché qualcuno dice Sleuth o Sleuth, che vuol dire Segugio, investigatore. Il titolo originale. Il titolo originale Sleuth. A un certo punto nel film di Olivier si chiamavano gli insospettabili e nell'altro hanno lasciato con Brano il titolo Sleuth. Ma io mi sono chiesto che cosa vuol dire, che cosa ha voluto dire esattamente Schafer con questo investigatore, Segugio. Ecco Segugio. Secondo me l'idea affascinante è che Segugio, l'investigatore, deve essere il pubblico. È il pubblico Sleuth. È lui che deve cercare di scoprire attraverso questa rete infinita di inganni, di rovesciamenti e di situazioni, che cosa veramente c'è nell'animo di questi uomini. Lei ha detto anche che in teatro si hanno cose che funzionano, cose che non funzionano. Io so che è prematuro porle questa domanda perché lo spettacolo deve ancora debuttare, però secondo lei facendo un po' una sorta di risposta divinatoria, cosa funziona nell'inganno e cosa potrebbe non funzionare. Dunque, potrebbe non funzionare, la mia preoccupazione maggiore è la tecnica, le macchine, perché abbiamo voluto fare uno spettacolo pieno di giochi, di invenzioni, di questa casa abitata da questo scrittore di romanzi gialli, non di grande valore, ma certamente una persona intelligente che considera la vita come un'orrenda noia e trova nel gioco, nel divertimento, negli inganni, la sua motivazione di vivere e abbiamo riempito la scena di trucchi, di porte che si aprono, si chiudono, librerie, camionetti che girano e questo mi preoccupa. Il resto, devo dire la verità, io non sono preoccupato, sono convinto che la comedia innanzitutto non annoia certamente e questo già è un piedistallo importante da compartire. E l'altro sono convinto che attraverso questo gioco viene fuori proprio un'inquietudine dell'essere umano che va osservata con attenzione, tant'è vero che noi siamo a volte così sciocchi nella commedia, addirittura termina con una cosa tragica e viene alla fine, nel finale c'è un pupazzo meccanico che sta sempre in questa scena, che assiste a tutti questi giochi che mentre, non dico come va a finire, ma in una situazione abbastanza tragica, da solo comincia a sghignazzare. Sghignazza lui proprio sulla stupidità degli esseri umani, lui è un pupazzo senza cuore. Esatto. La cosa più difficile in teatro è trovare ogni sera la freschezza, la verità dei sentimenti, delle emozioni. Leggo perché sono citazioni di frasi sue. La domanda è ovviamente, come si fa a trovarla? Come si fa a non deludere quel bambino che potrebbe essere seduto ogni sera in platea? Beh, questa è una cosa molto misteriosa a volte, ognuno ha i suoi metodi. Magari dopo la centesima replica. Sì, no, 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 io sono uno che ama le repliche, ci sono alcuni colleghi o colleghe che magari detestano replicare molto, io no, perché ogni sera posso trovare qualche cosa di diverso. Siete anche una delle poche compagnie che fa le lunghe tournei in Italia. Infatti quest'anno cominciamo adesso e finiamo il 10 maggio. Ma dico, esiste anche una tecnica che è la tecnica della respirazione, del ritmo, del volume, del colore, della voce. E poi esiste una tecnica cosiddetta, cosiddetta da me, una tecnica dell'anima. È una tecnica molto misteriosa, ognuno ha la sua tecnica. Ci sono delle cose, ad esempio anche quando studio un personaggio, quando penso a una regia o a una singola battuta, io seziono tutto col bisturi della razionalità. Cerco di capire il perché, perché è stato scritto, quando è stato scritto, che cosa vuol dire, perché segue quell'altra battuta, perché c'è quel personaggio che prima aveva detto questa cosa, doveva fare… Cerco di capire tutto. poi salgo sulla scena, comincio a provare e durante le prove comincio a maturare, avviene qualche cosa di misterioso che io non so descrivere e non mi interessa capirlo. Quando la razionalità sboccia in qualche cosa che a volte è poesia. Come sboccia io non lo so, ma è questo il mistero e la bellezza.